Partiti e vantaggio impatto davanti a Proclamation of War, Guntur, The Cornish Assassin, Brigant Chiocchio, Bliss Time, Gorlitz, Grinch Reis, Sunrise Spirit e Brigant of Anahul. All'inizio della curva conduce impatto davanti a The Cornish Assassin, Proclamation of War, Guntur, Gorlitz, Bliss Time, Brigant Chiocchio, Comiso Sol, Ridge Reis. Poco prima dell'ingresso addirittura vantaggio impatto davanti a The Cornish Assassin, Proclamation sono fuori Guntur, i cavalli entrano addirittura con impatto in vantaggio lungo la corda allo steccato opposto davanti a The Cornish Assassin, Ridge Reis per linee interne, seguono in vantaggio Ridge Reis per linee interne davanti a The Cornish Assassin, Comiso Sol, Brigant Chiocchio, e in vantaggio Bridge Reis attaccato all'esterno da Comiso Sol, conduce Ridge Reis, resiste Ridge Reis davanti a Comiso Sol, The Cornish Assassin, Guntur e Sunrise Spirit. 213 213 213 poi il 5 e il 9 buonasera a tutti grazie a tutti